A sostegno del candidato presidente del centro-sinistra Luciano D'Amico è arrivato in Abruzzo l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Prima tappa all'Aquila, Conte arriva galvanizzato dalla vittoria in Sardegna di Alessandra Todde, presidente espressione della coalizione di centro-sinistra con protagonisti Movimento 5 Stelle e PD. In Abruzzo si può e si deve far tanto, ha detto Conte, D'Amico è la persona giusta, c'è un campo largo che comprende anche azione di calenda, anche se a livello nazionale non è proprio così. Il primo punto però deve essere la sanità. Conte ha risposto pure alla domanda sui tre consiglieri regionali ormai ex 5 Stelle. Lui parla invece di un movimento in crescita, di prospettiva, che sta facendo una grande azione di ricomposizione e di espressione, di racconto del territorio. Io ho sempre detto che per lavorare, e questo vale a qualsiasi livello, occorrono interpreti affidabili. Quindi chi si è assunto la responsabilità di formare queste liste ha valutato ovviamente che ci fossero persone affidabili e non ho dubbio che questo vaglio, che noi peraltro come Movimento 5 Stelle pretendiamo giustamente per poterci sentire pienamente coinvolti e protagonisti di questa vicenda, è necessario ed è stato fatto. A livello nazionale stiamo sicuramente costruendo col Partito Democratico, con le altre forze, un'alternativa di governo ed è giusto ovviamente lavorare, ma sempre puntando ai temi comuni, ai programmi e poi ovviamente anche valutando l'affidabilità degli interpreti. Quelli che sono dichiaratamente non affidabili non possono essere compagni di viaggio. Il Movimento 5 Stelle sta facendo un lungo lavoro, anche faticoso, dobbiamo dirlo perché non è un lavoro breve che si esaurisce in poco tempo, di ricostruzione e radicamento sui territori. Addirittura siamo arrivati a 260 gruppi territoriali, questo vale anche per l'Abruzzo. C'è tanto entusiasmo, ci sono tanti nuovi ingressi, anche persone che vogliono interpretare quella che è la buona politica, che nasce dai territori, nasce dal contatto con le persone, con i cittadini per cercare di risolvere piccoli problemi che poi diventano sempre più grandi. Questo mi fa piacere, mi fa ben sperare che il Movimento 5 Stelle possa rafforzarsi sempre di più per testimoniare la buona politica anche a livello territoriale.